La sanità appunto che fa il punto sui propri organici, scusate il bisticcio nel lancio. Ci sono le repliche da parte dei direttori delle ULS alle rimostranze dei sindacati. Non accenna a placarsi il botte risposta a distanza tra sindacati e ULS2 sul tema carenza di personale e retribuzioni dei medici. Dopo la mobilitazione unitaria della scorsa settimana e il paventato sciopero generale della sanità in caso di mancate risposte, oggi arriva la replica dell'azienda sanitaria trevigiana con dati alla mano. E il primo sassolino dalla scarpa il direttore generale Benazzi se lo toglie facendo chiarezza sulle polemiche esplose dopo la notizia dell'assunzione di dieci medici romeni. Si tratta di nostri connazionali, specifica subito Benazzi, laureati nel nostro paese che per la carenza di posti di specialità in Italia hanno deciso di fare la specializzazione a Timisoara. Sono stanco di sentire che qualcuno specula su queste robe. Qua stiamo pensando alla salute dei cittadini trevigiani e non alle speculazioni politiche, perché ne abbiamo le palle piene con italiani, ve lo dico e ve lo ripeto. Lo facevamo con quei dieci medici che ci interessavano, erano tutti medici italiani, laureati nelle facoltà italiane, che siccome non trovavano un posto in specialità a Tadola, Udine, Verona, sono andati pagandosi a fare la specialità all'estero. A proposito di organici, nei primi mesi del 2019 fa sapere l'Ulss2 una settantina i medici assunti nel 2018, 101 a fronte dei 140 necessari a garantire il turnover. E questo nonostante i concorsi, una ventina nel bienio 2017-2018 a tempo indeterminato e un'ottantina a tempo determinato. Resta la criticità legata ad alcune specializzazioni, ginecologia, pediatria, anestesia, carenze che l'Ulss2 auspica di colmare con il prossimo concorso dell'Azienda Zero. Abbiamo diversi concorsi che abbiamo chiesto all'Azienda Zero, abbiamo chiesto una ventina di concorsi, quindi l'avvio di 22 concorsi all'Azienda Zero per diverse discipline mediche. Noi abbiamo chiesto, per esempio, in questa tornata 65 medici, la Regione ce li ha autorizzati tutti, adesso speriamo che nei concorsi dell'Azienda Zero si presentino tutti e quindi andiamo a sanare le carenze. Più tranquilla la situazione invece sul fronte infermieri e os. Infermieri e os, non solo riusciamo a garantire il turnover, come diceva anche il direttore generale prima, dal 2015 a oggi c'è stato anche un leggero innalzamento di quelli che sono gli organici. Altro punto di scontro con i sindacati, quello sugli stipendi dei medici. La CGL aveva parlato di retribuzioni dei camici bianchi dell'USL2 inferiori alla media regionale. Noi paghiamo come si paga in tutto il Veneto e paghiamo di più della media nazionale, sia i medici che gli infermieri. Non era stato inserito, rispetto al dato che i sindacati avevano, che è il dato del MEF, non era stata inserita la produttività dei medici e quindi di conseguenza la cifra media era inferiore alla media regionale. Un uso un po' troppo privato, privatistico, diciamo così, delle parrocchie, delle chiese a Venezia. Una lotta che va avanti con grande rumore tra i fedeli. La vicenda di Don D'Antiga che il patriarca di Venezia ora ha nel mirino con un procedimento disciplinare. Lui mi ha risollevata. Ho trovato la forza di andare avanti perché non ci riuscivo. Ero a terra. Io vorrei avere il diritto di avere Don Massimiliano. Le numerose proteste dei fedeli anche davanti al patriarca con tanto di lettera e raccolta firme al Papa non sono state sufficienti per riavere Don Massimiliano D'Antiga trasferito lo scorso dicembre dalle parrocchie di San Zuliane e San Salvador alla vicinissima Basilica di San Marco. In questi mesi i colloqui e gli scambi di lettere di richieste all'obbedienza dovuta da un sacerdote al suo vescovo non hanno portato a nulla. Per questo il patriarca Monsignor Francesco Moraglia l'ha chiamato a colloquio per notificargli, dopo il Via Libera del Vaticano l'apertura di un procedimento canonico extragiudiziale che potrebbe portarlo alla dimissione dallo Stato laicale. Si rende noto, si legge nel comunicato del patriarcato che in costante dialogo con gli organi competenti della Santa Sede dopo sofferta e ponderata valutazione dei fatti si è dovuto provvedere ad avviare un cammino di ulteriore discernimento disponendo un percorso extragiudiziale canonico per giungere a una serena valutazione dei fatti anche con il chiarimento di comportamenti ed eventuali responsabilità tutelando i diritti di tutti i soggetti interessati. Ora una commissione prenderà in mano il fascicolo per decidere il destino di Don Massimiliano. Quando il parroco fu sollevato dall'incarico di guida pastorale delle due parrocchie dopo le tante proteste dei fedeli Don D'Antica aveva respinto sia il nuovo incarico che comunque non gli avrebbe precluso di seguire il gruppo dei genitori con un figlio in cielo a cui aveva dato vita lui stesso nella proposta ritenuta offensiva di vivere un ritiro spirituale di qui la decisione di un procedimento. Ladri in azione sotto varie forme in provincia di Treviso e anche questa è una motivazione che spinge sempre di più i cittadini a un servizio di vigilanza pagati da loro stessi. Banditi ancora in azione nella marca. Tra sabato e domenica Biancaldi è stata fatta esplodere la cassa esterna delle poste che era però vuota perché da qualche giorno fuori servizio. Malviventi dunque rimasti a mani vuote. Ma nel mirino dei soliti ignoti anche le abitazioni con furti tentati come ieri sera a Merlengo di Ponzaneo o colpi andati a segno come accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Dosson. In questo caso i malviventi dopo aver forzato la finestra di un appartamento al primo piano si sono introdotti in casa mentre la proprietaria era fuori. Spariti una macchina fotografica, un giubbotto, i documenti personali, una carta prepagata e un braccialetto. Immediata la denuncia ai carabinieri è forte nella giovane proprietaria la paura per aver visto violata l'intimità della propria abitazione. Situazioni che si ripetono nella provincia e che portano sempre più persone a voler aderire all'iniziativa dell'associazione furti in corso della vigilanza privata autofinanziata. Cinque comuni nei quali il progetto è partito. Molte le richieste che stanno arrivando anche da Treviso. In procinto di partire abbiamo i quartieri di Treviso quindi piuttosto che San Lazzaro, San Giuseppe e San Zeno. Positivo il bilancio di questi primi mesi di servizio di vigilanza. È riuscita anche solo con il passaggio e quindi con il faro a far fuggire delle autosospette o anche delle persone viste scappare in mezzo ai campi di improvviso che erano appostati nelle zone buie delle città. Stando ai dati in mano all'associazione le segnalazioni di furti riferite allo stesso periodo sono diminuite del 50%. L'obiettivo di Demma è quello di confrontare questi numeri con quelli in mano alle forze dell'ordine in un incontro con prefetto, questore e comandante dei carabinieri. Poter poi vedere se i comuni dove è partita la vigilanza sono riusciti ad avere un abbassamento di questa micro criminalità e quindi vedere se poi in un futuro possiamo anche cercare di capire se i comuni stessi possono intervenire a dare una mano ai cittadini. Padova Urbs Picta, ovvero la città dipinta è la sfida padovana per cercare di essere riconosciuta come patrimonio UNESCO. Un compleanno importante per Palazzo della Ragione che con i suoi 800 anni di storia portati splendidamente riceverà la visita del presidente di Icomos Lenti Indipendente che valuta il percorso della nostra città verso la candidatura UNESCO con il ciclo Urbs Picta. Il compleanno sarà festeggiato con tutta la città prima con un concerto a Palazzo della Ragione e un convegno con la visione in anteprima del video che promuove le 8 sedi 9 con il Castello Caralese che completano il percorso Urbs Picta. Domani ci confronteremo ancora con il MIBACT e con un importante direttore Icomos Italia che è l'organismo che a livello internazionale è funzionale rispetto alla valutazione dei dossier. Ovviamente non si tratta del nostro esaminatore che sarà una personalità che arriverà segretamente a Padova ma diciamo che è un autorevole rappresentante Icomos in grado di fornirci utili consigli rispetto alle strategie vincenti se vogliamo portare a casa il riconoscimento per Padova come giusto che sia di patrimonio UNESCO. L'arrivo del presidente Icomos a Padova sarà l'occasione per la città di ascoltare alcune indicazioni per migliorare la situazione attuale in vista poi della visita a settembre dell'ispettore segreto dell'UNESCO molti gli spunti dallo stop alle auto davanti ai musei del centro al biglietto unico. Non possiamo avere le auto che si parcheggiano davanti al museo degli eremitani non possiamo avere le auto che indebitamente si parcheggiano all'interno del sacrato del Duomo è evidente che se vogliamo che la città venga riconosciuta dobbiamo fare uno sforzo collettivo dovremo avere un biglietto unico un marketing unitario. Ma non è finita qui l'impegno è anche sul fronte sicurezza con la lotta al degrado che attanaglia i giardini dell'arena che circondano la cappella degli Scrovegni non è accettabile che siano zona franca di spacciatori e sbandati solo poche settimane fa dopo la segnalazione dell'assessore Colasio c'è stato l'ennesimo blitz per cacciare i pusher che si nascondevano nella grotta a pochi metri dal gioiello di Giotto. Con il sindaco abbiamo messo in moto una procedura per fare un bando per far sì che i giardini possano essere vissuti la situazione è questa il buono caccia il cattivo se quei giardini saranno vissuti si creeranno le condizioni perché finalmente la cappella si è liberata anche da quella presenza assolutamente inannissibile degli spacciatori. Ci fermiamo per una pausa. Grazie. 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 Grazie.